Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video che è il video dedicato ai preferiti del mese di agosto saluto la mia amica Velia, le mando un grosso bacio, ovviamente Velia è Black Moon ASMR ma se non la conoscete va bene, vi lascio i suoi riferimenti giù nell'info box oggi sto registrando con il mio zoom perché il primo amore non si scorda mai ed è bene non accantonarlo del tutto anche perché so che alcuni di voi preferiscono lo zoom dunque agosto mese di vacanze, mese di divertimento, di relax, di riposo assoluto o quasi vediamo un po' che cosa ho combinato canzone del mese parliamo un attimo di tormentoni estivi ve ne sono stati moltissimi odiati veramente cioè non vi voglio fare dei nomi ma vi giuro che il 95% dei tormentoni estivi italiani non ce la facevo più e tra tutti quello che mi è piaciuto di più e che ho ascoltato volentieri più volte è la canzone di Gali, Turbococco io non ascolto molta di questa musica young però Gali mi piace un po' mi piace e l'ho ascoltato un po' anche su Spotify e non mi dispiace affatto fra tutti questi giovani rapper è sicuramente quello che preferisco passiamo alla domanda numero 2 le serie tv del mese o il film effettivamente ho guardato solo una serie tv che è Safe che tra l'altro mi era stata consigliata proprio da Velia ed è una serie tv breve, un'unica stagione mi sembra 8 episodi mi sembra con Michael Hall che è l'attore protagonista di Dexter quindi il mio amato Dexter la serie è molto carina mi è piaciuta molto proprio il genere che piace a me quindi andate tranquilli se vi piace il genere crime, thriller carinissima come film vi voglio parlare solo di un film ho guardato al cinema pochi giorni fa Il signor diavolo di Pupi Avati un film che definire horror è veramente eccessivo un film gotico che aveva delle premesse esaltanti visto che era per recensito su My Movies visto che Pupi Avati è anche il regista della casa dalle finestre che ridono che è stato un film che a suo tempo ha suscitato molto apprezzamento e anche a me è piaciuto nella sua particolarità ma Il signor diavolo vorrei usare un'espressione fantoziana se vi ricordate la scena della corazzata da Pupi Onkin ma andrò oltre Il signor diavolo è un film da evitare e ci tengo a dirlo visto che è ancora nelle sale quindi il mio consiglio è di non andare a vederlo probabilmente sarò io ignorante non l'ho capito tutti quelli che erano in sala con me sono rimasti abbastanza sciocco basiti a fine film perché il film è lento gli attori sono scarsi la trama è debole effetti speciali zero il punto è che ha voluto produrre un film in perfetto stile anni che furono anni 70 quindi assolutamente anacronistico per i tempi odierni ma veramente noioso brutto e lento bocciatissimo per me ma passiamo al capo del mese va che meglio il capo del mese assolutamente sono stati i costumi da bagno perché ne ho indossato uno al giorno sono imbarazzante perché mi sono resa conto che ne ho talmente tanti che in tutta l'estate tutti i giorni di mare non sono riuscita a indossarli tutti vabbè ve ne faccio vedere uno così simbolicamente ma è l'unico che ho qui adesso in questa casa perché l'ho lasciato tutti a casa dei miei non è tra i miei preferiti ma mi piace abbastanza ed è questo questo che ha questo toppino particolare con questa scollatura posteriore molto particolare è in fantasia visci sul blu celeste e bianco è un topo quasi di quelli sportivi mentre la mutandina è semplice così con i nodini e questo è un costume che metto quando voglio stare comoda o quando devo andare sugli scogli e quindi non c'è il rischio che mi tuffi e rimanga ignuta a parte il costume da bagno il capo del mese è questa camicetta che indossavo nel video recensione del sito Rosegal è una camicetta annodata un po' corta verde ovviamente a bua con delle manichine un po' ricciate un po' sbuffo e ogni volta che la metto qualcuno mi fa i complimenti non so forse questi colori mi donano particolarmente ma poi è molto carina uno stile un po' vintage mi piace veramente tantissimo e l'ho indossata parecchie volte quest'estate perché appunto anche con un pantaloncino nero una gonna nera uno short di jeans mi risolveva l'outfit quindi capo del mese assoluto questo poi smalto del mese a proposito mi sto crescendo le unghie guardate vedete adesso sono ancora un po' appuntite ma appena crescono un po' di più le limo le faccio un po' più squadrate comunque smalti del mese anzitutto questo che è una base di essence che si chiama SOS Nail Detox Intense Recovery ed è appunto una base fortificante e poi il mio smalto più usato del mese di agosto è stato questo fucsia bellissimo di pupa è il numero è il numero non lo so 357 2 non so non lo so ah no 035 cosa ha scritto qui è questo il numero di riferimento 035 della linea lasting color extreme smalto brillante lunga tenuta è vero abbastanza performante e devo dire che questi smaltini di pupa mi piacciono moltissimo ve lo consiglio questo colore continuerò a utilizzarlo perché è un fucsia molto molto bello non troppo barbie mi piace tanto domanda numero 5 cibo del mese non ho dubbi il cibo del mese è la frisa ora cerchiamo di non cadere in equivoci come il video passato sul cocomero la frisa so di per certo che è un piatto un prodotto tipico pugliese ma a scanso di equivoci ve la faccio vedere così siamo tutti tranquilli qui ho ciò che rimane di un pacco di frise provenienti dal forno del mio paese queste in particolare sono delle frise piccole possiamo dire delle friselle chissà se voi tutti conoscete le frise ve ne prendo una la frisa è questa è una sorta di pane molto duro 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 queste in particolare sono delle frise ai cereali infatti non so se vedete sono oltre che scure perché fatte di farina di cereali all'interno poi hanno numerosi semi di vario tipo semi di non lo so di chia di sesamo ci sono vari tipi di semi all'interno la frisa si bagna un po' con l'acqua si sponza diciamo noi più o meno in base a quanto la preferiate dura o un po' più morbida si accompagna solitamente con dei pomodori e ci potete mettere anche altro la rughetta i capperi il tonno l'origano olio sale e siete a posto la frisa è stato il mio alimento quotidiano quando andavo al mare mia madre mi preparava la frisa in questo modo faceva un intingolo in una coppetta con pomodori tagliati a pezzetti e poi o rucola o capperi o peperone verde quello piccolo crudo me lo tagliava a rondelle olio sale origano e me la spezzava a pezzi dopo averla bagnata un po' quindi mi faceva questa insalata di frisa molto comoda da mangiare anche in spiaggia e lei mi ha sostentata per tutta l'estate e continua ad essere un mio must have finché le temperature sono abbastanza calde perché per me è un cibo da temperatura calda da estate io la amo come tutti i salentini la frisa è proprio uno stile di vita quindi spero che prima o poi l'assaggerete se non l'avete ancora fatto accessori del mese ne ho diversi allora anzitutto questa collana di jana ciancimino vi lascio i riferimenti giù nell'info box l'ho usata tantissimo è stupenda oggi la indosso con un doppio giro o altrimenti a volte la porto lunga quindi questa qui questo braccialetto l'avrete visto in tutte le salse perché lo vendono lo vendevano tutti gli ambulanti possibili immaginabili spiaggia in tutte le varianti cromatiche e io ho scelto questo turchese no più che turchese è un verde acqua direi molto carino è stato il mio braccialetto dell'estate 2019 poi accessori del mese lei la mia borsa mare io ho questa qui in tela con una fantasia un po' etnica e delle piccole lappine e poi ha i mani in cif in questo modo in corda lei sta per la mia compagna di disavventure marine e poi io lo inserisco negli accessori ma in realtà è un paio di scarpe probabilmente sarebbe da annoverare tra i capi di abbigliamento mettetelo un po' dove volete voi le scarpe più utilizzate per l'estate sono state queste questi sandaletti qua di Stradivarius bellissimi neri in pelle con le conchigliette stupendi pianti bassissimi così adoro veramente li ho messi tantissimo e sto continuando ad utilizzarli perché i sandali sono l'ultima cosa di cui mi sbarazzo quando proprio il clima non ha più niente di estivo io tolgo i sandali ma finché posso lascio i piedi scoperti perché respiro con i piedi scoperti sono un po' selvaggio da questo punto di vista ok ok per quanto riguarda il prodotto del mese vi faccio vedere questa crema che ho utilizzato tantissimo è una crema di Aven si chiama crema idratante fondente per pelli sensibili e secche è un flacone di 250 ml vedete mi fu regalata per il compleanno ossia viene definito balsamo idratante fondente esatto e l'ho utilizzata prettamente come crema idratante dopo sole perché insomma non mi andava di comprare appositamente un dopo sole ho utilizzato questa che è comunque molto ricca molto nutriente ed ha una profumazione soave veramente delicata stupenda veramente e continuerò continuo e continuerò a usarla finché sua morte non ci separi perché per il momento è circa metà bene 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 questo era il prodotto del mese doccia time vi mostro due prodotti da doccia per il corpo perché c'è vento scusate perché per i capelli ho usato prodotti che utilizzano i miei a casa niente di particolare e allora nella prima parte di agosto ho utilizzato questo bagno schiuma delle petit delle petit merseille ma non questo bensì quello con la confezione verde al latte di mandorla siccome l'ho terminato e ho buttato la confezione volevo comunque mostrarvi di che linea stiamo parlando questo è i fiori d'arancio e siccome erano in offerta 0,99 euro presso il tigotà ho fatto scorta ne ho presi tre perché a me questi bagno schiuma piacciono tantissimo intanto si è messo a piovere e spero che non sentiate nella seconda parte del mese invece ho utilizzato questo prodottino qua di cui vi parlo molto volentieri questa è la mousse doccia di DAV all'olio di cocco devo farvi vedere basta ne prendo poco così cioè questa è una schiumetta che quando ve la passate sul corpo durante la doccia vi fa una coccola un massaggio inaudito e mi sta piacendo tantissimo l'unica cosa è che la profumazione me l'aspettavo diversa invece l'olio di cocco si sente poco devo dire magari la prossima volta proverò un'altra profumazione perché ce ne erano diverse un prodotto assolutamente innovativo che ha catturato la mia curiosità e mi ha soddisfatta parecchio proprio perché sotto la doccia è cocoloso usare questo prodotto e basta parliamo di make up ridotto ai minimi termini vi dico solo che giù in vacanza ho portato la palette di Cosmify che per me è una palette molto completa e non l'ho tolta neanche dalla valigia cioè non ho truccato gli occhi mai ad esclusione del mio mascara Pupa Vamp sempre presente illuminante sempre di make up revolution vi ho fatto una testa così ma ve lo faccio rivedere per l'ennesima volta c'è la parte gold e la parte rosata e terra non ho usato neanche il blush terra di astra anche lei mostrata fino all'esaurimento proprio ciò che ho truccato un po' di più invece sono le labbra cioè mantenevo la base e gli occhi molto leggeri e mettevo un velo di qualcosa sulle labbra prima che me lo chiediate oggi sto indossando Sedactress il 65 delle tinte di Maybelline le Superstay Matte Inc che è un rosa molto tenue ma non è questo il prodotto che ho utilizzato maggiormente bensì rossetto di Mesauga Matte Romance numero 603 Madame un rossettino dei miei un rosato nude abbastanza cremoso molto confortevole sulle labbra poi ho usato questa matita di Kiko della linea Ocean Phil Lip Liner in questa colorazione aranciata mattone molto bella anche se può sembrare un colorino autunnale guardate qui a me con la bronzatura questo colore piace un sacco e spesso l'ho abbinata a una rossetto liquido sempre di Kiko questa volta della linea Dark Treasure è un matte ed è questo che è praticamente lo stesso colore un color zucca ecco un color zucca guardate bellissimo questo abbinamento ovviamente questa combo lo utilizzerò tantissimo in autunno se volevo il glossino invece andavo con il mio Fenty Beauty il Fenty Glow cioè questo qua che con la bronzatura è una cosa meravigliosa basta non ho usato altro niente di niente evento del mese è un evento molto felice per la mia famiglia il figlio di mia cugina che ha sette anni è un campione di scacchi e partecipando a un torneo nazionale e arrivando secondo ha vinto il pass per i mondiali in Cina Anderotto quindi ad agosto è partito per la Cina ed è stata un'esperienza meravigliosa per lui ma anche per noi parenti che abbiamo seguito insomma le sue vicissitudini è tornato proprio oggi dopo due settimane di torneo e non vedo l'ora che mi racconti tutto il figlio di mia cugina per me è come un nipotino e poi è veramente il nostro orgoglio perché è un piccolo genio quindi un evento veramente felice per noi è interessante e poi video del mese ce l'ho qua voglio menzionare il make up role play troviamo l'ombretto adatto a te di Lucia CLSMR ciao Lucy ve lo linko qui da qualche parte o giù nell'info box guardatelo perché è stupendo candela niente di particolare perché è stata una candela al gelsomino che era a casa di mia mamma ma non ricordo la marca però l'abbiamo bruciata per tutto il mese di agosto il commento invece di Ran Ikari o Ikari che mi scrive ho già lasciato un commento sul cocomero ma vorrei lasciarne un altro su quello che hai detto a fine video l'ho riascoltato e mi ha colpito è bello sentire sempre nuovi incoraggiamenti su come affrontare la vita con positività o confrontarsi con la prospettiva di qualcun altro stesso commento o comunque di quel significato mi ha lasciato anche Luna Nera che voglio salutare quindi vi ringrazio entrambi perché il messaggio di positività è proprio quello che voglio veicolare con i miei video quindi sono contenta che sia arrivato forte e chiaro adesso vi lascio perché la pioggia è imperversa qui e sono sicura che vi stia dando un po' fastidio grazie per essere stati qui un bacione ancora a Velia grazie a tutti voi e ci vediamo molto presto con un video magari meno rumoroso di questo e meno piovoso ciao a tutti ciao 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 ciao